ci sono delle corde che vengono toccate dentro di noi quando le provi la prima volta e non verrà mai più ripetuta ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e quest'oggi in mia compagnia state già vedendo qui alla mia destra il grande maury 72 ciao maury ciao ciao fabri sono onoratissimo di essere qua sim drivers ovviamente soprattutto in compagnia di te grazie grazie sei troppo gentile ma sono io che sono felicissimo di ospitarti in oggi ovviamente questa questo format che diciamo stiamo portando avanti così in modo casual è venuto da questa fantastica idea che adesso ne parliamo subito così facciamo subito pubblicità qua sotto metterò qualcosa sicuramente quando ci siamo riuniti tutti insieme a dire oh ragazzi ma sto ms2 che facciamo sto automobilista 2 soprattutto da quel famoso video in cui non sono riuscito a riempire la lobby e ci è venuta questa fantastica idea che tu che tu stai portando avanti come il portabandiera cioè fai video su video perché in realtà chi mi ha fatto venire voglia di automobilista 2 te lo confesso sei tu perché è impossibile ragazzi la simpatia di maurizio cioè non potete non seguirlo quindi subito vi invito maury 72 andate lì iscrivetevi a fiducia ragazzi like ovunque perché se lo merita e soprattutto quello che mi ha colpito di te maurizio devo dire la verità è la passione perché quello che mi colpisce delle persone è la passione anche con antonio fiorillo karma tv con con davide con alessandro grappe c'è la passione veramente per non solo alla simulazione in sé ma delle cose particolari e nel caso tuo è tutto quello che è storico da quello che ho capito da quello che trasmetti e anche dalle serate che ci facciamo il venerdì il sabato è quello perché lo storico maurizio ma allora ti dico io sono proprio appassionatissimo sia del motosport vero e proprio perché c'è comunque con mio papà un po come abbiamo vissuto forse un po tutti io adesso non so ma come età saremo lì immagino più o meno guarda 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 non so tu ma io 45 mani di età mentale sono ancora 13 14 quindi sì sì ma io anche meno però ti dico quindi la domenica pomeriggio che si guardavano nei primi due giri di formula 1 e poi si dormiva era però era qualcosa di fantastico cioè e io ti dico la formula 1 per me è sempre stato diciamo il ritrovo della famiglia mio padre tra l'altro lavorava all'estero ci sono state delle cose che hanno conciliato proprio questa passione che era un ritrovo in famiglia ma che era proprio la passione del motosport ma anche con la passione della famiglia questa cosa poi è cresciuta logicamente nel tempo e soprattutto quando poi nell'era degli anni fantastici anni 80 quando si andò nei sale giochi quindi quando vedi pole position il camminato era una roba da panico stiamo parlando di preistoria vero mauri lo sai no? quindi parliamo di preistoria ragazzi io sono un ragazzino ho detto prima e quindi partendo da lì poi è tutto stato un susseguirsi quindi poi da lì addirittura poi logicamente computer amica indy 500 f1 gran pre 2 un po' quelli che conosciamo tutti e poi fino a oggi oltretutto tutto ciò che poi è uscito dopo da comunque da gtr 1 gtr 2 tutti i titoli anche più recenti fino agli ultimi il discorso della passione nasce proprio da questo cioè io sono proprio appassionantissimo non soltanto nella simulazione in sé ma proprio nel portare e cioè chi ovviamente vede qualche mio video se ne sarà accorto che è proprio il voler divulgare cioè quasi quasi doverlo quasi sentirlo come un obbligo cioè quasi come una cosa di passione che voglio voglio rendere partecipi chi guardano tutto quello che è e quindi io come pilota in sé come ho già sempre detto non sono un pro o uno che che va forte ma perché perché personalmente sono uno che si è sempre dedicato a me piacerebbe mi piaceva stare delle ore anche solo girare da solo così cioè proprio l'idea della pista il box il setup stare delle ore e questa è una cosa che a me personalmente ha sempre appassionato e ho fatto un canale per portare queste cose cioè questo è il mio il mio io diciamo hai anticipato la mia seconda domanda quindi sappiamo perché hai fatto questo canale quindi divulgazione di tutto quello che è storico però una domanda ancora più specifica perché automobilista 2 perché lo sai che questo titolo qua è odiato e amato cioè o lo ami dai morire oppure cioè non non è che si mette in mezzo diciamo è allo strascico di project cars 2 no che io all'inizio nel 2017 il primo il primissimo video che ho fatto diciamo ufficiale diciamo per il canale di sim drivers in cui mi sono messo un po seriamente a fare le cose ho sempre detto ma secondo me non è né un arcade né un simulatore non si capisce che cosa è e ho avuto un successo pazzesco su quel primo video con 100 iscritti proprio perché era condiviso quel pensiero a tutti ora dallo strascico di project cars 2 perché comunque il motore è quello la struttura è quella eccetera e comunque il liceo stanno con il team di sviluppo stanno scoprendo delle nuove cose eccetera per cercare di migliorarlo non è proprio come project cars 2 ovviamente uno può confonderlo ovviamente c'è graficamente però obiettivamente il force feedback il comportamento della macchina fisica eccetera cioè non c'entra più nulla ormai quindi perché automobilista 2 per te non mi dire perché ci sono le auto storiche perché ci sono ovunque ma perché no 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 allora automobilista 2 intanto io sono uno di quei 100 che si è iscritto io ti seguo da allora quindi grazie fantastico quindi ti dico automobilista 2 mia è un titolo che mi ha preso ma ma non c'è una ragione proprio specifica nel senso tante vetture tante piste storico non storico mi ha mi ha dato un senso di odio amore hai detto la cosa giustissima perché effettivamente è proprio quello che io ho sentito in quel gioco lì cioè comunque avendo provato anche project cars 2 comunque si vedeva era molto più improntato a una versione arcade che comunque qualche macchina c'era che si salvava proprio pochissima roba ovviamente assetto course tutti gli altri sono un altro livello cioè non è paragonabile però io i racing non ho mai provato anche se ho sempre quella mezza voglia di provarlo ma lì era una presa di posizione il black friday è qua eh quindi fare un annetto almeno con i contenuti io un consiglio cioè lo do spassionato ragazzi almeno andare a provare i contenuti gratuiti che danno che sono una ventina di circuiti una ventina di auto ovviamente sono americani quindi avrete 10 ovali circuiti che non conoscete però anche per provare la fisica come funziona uno dice provo magari vi esce un abbonamento di un anno a che ne so 15 dollari uno li mette 15 dollari voglio dire quindi io il consiglio tanto ora black friday è adesso quindi se vuoi anzi tipo oh ragazzi vi passo pure il codice sotto d'accordo così mi danno i crediti mauri sì sì questo c'è il mio link referral quindi se vuoi vai qua ti scrivi e e poi no onestate quindi ragazzi no da domani vi vedete già su air e no no domani aspetta il black friday io io devo dire la verità sono capitato non era neanche un'offerta ma credo di aver pagato una trentina di dollari a maggio per un anno e quindi non so perché che in quel momento c'era quell'offerta che mi sono buttato però è da provare secondo me perché è uno dei titoli che fa parlare di sé un sono 15 anni che lì eccetera però per tornare al discorso guarda quello che stai dicendo questo odio amore di automobilista 2 ce l'ho anch'io però il lago che fa appendere la bilancia in favore di automobilista 2 sai cos'è il fatto che comunque c'è questa immediatezza di tipo creare il server no cioè sono un po impazzito dico la verità però quando l'hai lanciato no adesso ci sono i manager guarda la gestione delle delle mod ci sono i manager adesso sì sì il fatto che comunque la grafica è bella che c'è ha un impatto grafico impressionante cioè secondo me poi la fluidità in VR poi c'è lo spazzesco quindi penso che sia proprio quello e poi dai il force feedback non è male certo ci sono no ci sono quei punti interrogativi su alcune macchine come giustamente sottolineare non lo so dove è vero è vero però ci sono ce ne sono alcune poi comunque ragazzi dopo l'1.5 è cambiato parecchio e ancora non abbiamo visto nulla maori attenzione io no è certo sì ma anche lì è una è contrastato l'opinione di delle persone perché ovviamente hanno il metro di paragone chi è sono i mostri sacri come era factor 2 era factor 2 ragazzi possiamo dire quello che vogliamo però parte tutto da lì se Rainsport viene a copiare il codice un motivo ci sarà io parto pensa prendo la grafica di assetto forza competizione il circuito di assetto competizione ti assemblo posizione tipo mostro comunque prendo tutto e cerco di fare un graficamente qualcosa di migliore di Rfactor 2 in più mi prendo la fisica ragazzi però non ci sono riusciti siamo sputtanari cosa abbiamo visto poi il fatto che comunque adesso ragazzi diciamo siamo 82 sul gruppo eh maori cioè al di là di tutto la simulazione eccetera 82 persone che cioè ci sentiamo tutti i giorni che facciamo quindi è una figata pazzesca comunque comunque devo dire adesso per carità cioè come ho detto già in un video anch'io che per carità non è che io abbia dei meriti come ci mancherebbe però avendo comunque portato tanto automobilista e e ci sono persone che comunque ci sono appassionate effettivamente guardando qualche video anche saranno pochi saranno quello che sarà però come qualcuno sia appassionato poi c'è stato ovviamente una miglioria e tanti mi hanno scritto e mi hanno detto ma guarda ma io ho iniziato a giocare automobilista 2 perché ho visto i tuoi video ho visto te e questa cosa qua ovviamente a parte il piacere personale che può essere una soddisfazione o meno ma queste sono cose che lasciano il tempo che trovano l'importante è che le persone si divertano quando io penso che dal momento cioè io sono anche dell'idea che ci sono a volte adesso a parte la simulazione vera e cruda pura c'è tutto quel discorso che sappiamo che è il fatto poc'anzi di r factor 2 ma anche un discorso esiste anche una specie di via di mezzo non un regno di mezzo chiamiamolo così dove ci sono delle persone che sono lì a metà che sì hanno piacere della simulazione ma hanno anche quel piacere di una guida simulativa ma magari non eccessiva magari che possa essere anche un po' perversivo che possano divertirsi ma guarda è giusto e trovare una soluzione un titolo che comunque mi offre un gran parco macchina un grande parco di piste e io posso divertirmi e fare delle gare online ovviamente purtroppo ecco il problema un po' eccessivo di multiplayer effettivamente quello c'è però secondo me il fatto che anche tanta gente si sta avvicinando questo mondo è anche per questo perché è anche il risultato forse nostro adesso di questi 32 iscritti al canale telegram può essere anche proprio questo fatto perché comunque esiste questa fetta di persone perché ci sono tante persone che sono anche condizionate da ciò che dice appunto il mass media il giornale il youtuber di turno cioè però sono d'accordo però è anche vero che il titolo non si presta nel senso che se tu fai una lobby ci metti che ne so 10 minuti e poi non ti entra nessuno sì sì no no certo che non ci sono eventi non ci sono le cose la gente è attirata anche da queste cose qua ovviamente noi stiamo facendo questa comunità perché sfruttiamo il canale youtube ne siamo in 3-4 che abbiamo fatto questa pubblicità ovviamente 80 persone è quasi naturale che arrivano perché chi ti segue gli piace automobilista diceva qua c'è Mauri c'è Fabri c'è Antonio eccetera eccetera più le persone che sono dentro secondo me ancora si devono lasciare andare un pochettino prima di pubblicizzare vogliono capire eccetera perché ricordiamo che sono tre settimane che abbiamo lanciato questa cosa qua tre settimane 80 persone è già una piccola comunità che insomma fa tanto quindi secondo me possiamo diventare ancora di più senza problema perché se guardo le comunità su facebook ci sono delle comunità a mille persone però il fatto che ci sia un canale telegram dove possiamo parlare tra di noi ci possiamo dare una mano praticamente in modo istantaneo cioè ragazzi dobbiamo fare i sondaggi per decidere le combo la gente si vuole allenare per fare cioè la gente si allena perché sì è vero dice io sono scarso no quindi per non pensate la mentalità per non arrecare danni agli altri mi voglio voglio apprendere la pista la macchina così sono preparato noi non abbiamo chiesto nulla è vero Mauri non abbiamo messo regole è vero è vero cioè noi vogliamo solo il rispetto e da soli hanno fatto c'è una figata pazzesca quindi l'invito ovviamente veniteci a raggiungere perché comunque passiamo dei pomeriggi e delle serate in cui veramente ci si diverte ovviamente è un conto quando siamo due un conto quando siamo venti venticinque trenta è una figata pazzesca cioè l'altra volta non eravamo diciotto diciannove sì sì diciotto diciannove cioè l'hai mai visti diciotto diciannove umani sul server a non mi mi resta due io no quindi no no è fantastico è fantastico oh Mauri poi c'è un'altra cosa da dire c'è una cosa da dire si scoprono dei fenomeni pure ma no c'è gente ragazzi sono degli alieni cioè vanno a una cioè sono pazzeschi come vanno giù in pista e poi ovviamente le prospettive che ci dicevamo con Maurizio con Antonio insomma con il gruppo che abbiamo lanciato questo questo canale e magari la possibilità anche di iniziare a fare degli eventi tra di noi ovviamente senza nessuna pretesa quindi questo è lo spirito che cerchiamo senti Mauri tornando a te io ti ho seguito ti seguo da un paio di anni ti devo dire la verità e mi sono manifestato diciamo non subito ci siamo sempre scambiati grande Mauri grande fabbri eccetera eccetera rispetto al reciproco però io ho seguito un attimo l'evoluzione di quelle che sono state le tue postazioni la tua diciamo del tuo setup per quanto riguarda la simulazione quindi tu sei partito da lontano come tutti oggi con l'attuale configurazione che hai quindi triple screen hai il VR hai un Mozza un R16 no no un R5 un R5 e c'ha il volante un F ho due corone ho sia quello da formula e l'altro che è il rotondo allora la domanda è ovviamente qual è il prossimo step oppure sei arrivato dove volevi ma il prossimo step ci sarà senz'altro adesso ovviamente ragazzi l'occhio l'occhio di Mauri ragazzi ci sarà la postazione no non ho voglia di montare basta cioè va bene questa beh almeno per adesso a meno che non me la portino non me la portino montata sono profilati però no sono sempre profilati no io ho FGT della X-Level no devi prendere profilati no nulla da da togliere a quella postazione però se devi fare lo step successivo ovviamente ti serve qualcosa certo certo non ho quello senz'altro però ti dico però adesso vabbè io ho spazio qui questa stanza è mia quindi diciamo il mio studio quindi di spazio ne avrei però il discorso è proprio anche un po' proprio mettermi lì a montarlo che ma ci penseremo ci penseremo lasciamola lì quindi lo step successivo invece per il discorso dello step successivo sicuramente un motore più potente questo senz'altro anche se devo dire la verità che io poi sicuramente sentendo anche tanti tu sicuramente riuscirei a confermarmi questa cosa perché sei molto esperto che comunque con motori anche molto potenti siano dettagli anche se si abbassa il force feedback perché io personalmente ho un po' un problema con il force feedback perché avendo praticato diciamo per tanti anni il pugilato ho dei problemi ai polsi nonostante utilizzassi sempre i bendaggi ho proprio dei polsi che mi fanno male quindi anche gli strattoni che ogni tanto mi danno mi danno fastidio questo ovviamente dipende un po' ovviamente poi bisogna vedere sicuramente ci sono i filtri tante cose però io anche sulla force del motore effettivamente addirittura questo che è soltanto un 5.5 pensa che ho un rally assolutamente lo devo mettere a 60 perché non ce la faccio non riesco proprio a guidare mi crea proprio dei problemi se prendi i motori più potenti ovviamente devi fare attenzione a chi che marca e che tipologia di gestione dei filtri che hanno perché se dobbiamo soffermarci a parlare solo di newton meter e quindi di potenza pura non ha senso perché tu prendi un 30 newton metri di qualsiasi marca ti spezza le braccia e non è quello lo scopo una persona molto più competente di me nel settore mi ha detto un giorno guarda quello che è importante è poter prendere un cordolo con 18 newton metri di forza ma filtrato e quindi tu non senti uno strattone ma bensì quello che sta succedendo quindi perché sei connesso a quello che è il cordolo e la strada quello è lo scopo più ha potenza e più gestito meglio più è filtrato e più hai un feedback fedele questo è alla fine alla fine quindi la scelta deve essere molto importante in questo senso qua più di così non posso dire che andrei oltre le mie capacità e le mie conoscenze tecniche poi non mi fermo qua però ad esempio io sono passato a sim simu cube 2 il pro perché per me per quanto mi riguarda il non plus ultra per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo e soprattutto perché per alivarci sono passato da due direct drive di miei quindi il podium e il camus quindi sono due realtà quasi diametralmente opposti per quanto riguarda la gestione dei filtri e della potenza e oltretutto grazie grazie al cielo ho avuto la possibilità di testare anche da rivenditori fiere eccetera eccetera altri prodotti e alla fine ti dico la verità questo l'ho provato alla cieca al buio cioè quando è arrivato l'ho montato l'ho acceso e quando tu hai per 4 anni di fila dal 2019 fino al 2023 tutti quanti ti ripetono guarda che vai su quello non posi e ti dimentichi è vero posso dire che sono andato oltre a quelle che sono il mio modo di fare proprio perché dopo 4 anni se tutti tutti ti dicono così non che le altre marche non vadano bene ci mancherebbe altro anzi sono stati fatti dei passi avanti giganteschi per quanto riguarda i drive ci sono delle marche che si stanno veramente sono di altissimo livello però io sono andato sulla sicurezza per una questione di esperienza di chi è il primo nel settore che è arrivato primo nel settore e devo dire la verità che è la prima base che non ho problemi di settaggi di cose non ho da ricercare capito scarico un profilo e vai giù questo è ecco perché è fantastico devo dire la verità adesso non per fare pubblicità però dico no 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 però dico attenzione però non rinnego tutto quello che ho detto sul Fanatec sul Camus sono prodotti certo però non lo so c'è un qualcosa in più se dici queste cose è perché hai l'esperienza di poterlo dire te lo hai vissuto sulla tua pelle lo sai cosa hai vissuto guarda io ho un carissimo amico che ha avuto la fortuna di avere a casa sia il DD1 che il Simcube lui mi dice per me non noto nessuna differenza quindi è talmente soggettiva la cosa ovviamente io non sono d'accordo con lui cioè rispetto la sua opinione ma non la condivido e lui lo sa però tra amici si discutono ma non sono d'accordo con te perché oggettivamente comunque c'è una differenza ma ripeto personalmente non è che tu puoi imporre le tue idee quindi il consiglio che tu è che se c'è modo prova vai a provare se c'è modo però poi c'è un'altra cosa che nella tua zona comfort oggi con il tuo mozza ti trovi benissimo certo sì 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 quindi tu sai quello che hai ma non sai quello che trovi quindi c'è anche questa cosa certo questo è sicuro ma questo è vero è vero verissimo diciamo che queste sono cose che effettivamente capitano un po' in tutti i settori che richiedono tecnologia guarda ti dico questa cosa che non c'entra nulla con i resi ma comunque è paragonabile ad esempio io vado in bici da corsa adesso e io ho degli amici che hanno delle bici da corsa ragazzo mio che padonna ci sono delle bici che costano 17.000 euro e sono bici da corsa allora io ho una bici da corsa che qualche migliaio di euro lo costa non a quei prezzi lì ovviamente però e non ho i freni a disco non ho i freni ho ancora i vecchi freni però ti dirò la mia bici è più leggera loro hanno le bici super fighissime per carità dei telai pazzeschi però sono più pesanti perché hanno stifoni a dischi anche se adesso le ultime recentissime sono decisamente più leggere però per collegarmi a quello che hai detto tu adesso è proprio così cioè è vero è tutto verissimo la tecnologia va sempre nella direzione migliore e ovviamente però non sempre alla prima botta tra virgolette risolviamo tutti i problemi cioè questo va anche detto cioè quindi ovviamente adesso da qui al discorso del Moser è un altro discorso però effettivamente c'è questo c'è spesso questo step che magari non sempre poi uno subito è soddisfatto poi magari ci va un attimino e poi dopo ovviamente poi non tornerebbe più indietro questo è vero esatto esatto beh oggi tu non torna prima cosa avevi il G20 no cioè non te la faccio neanche la domanda cioè voglio dire ma però è anche vero che quei quei volanti lì cioè ci hanno fatto stradivertire io mi ricordo il primo Logite che ho avuto cioè se devo paragonare le due diverse epoche anzi avevo anche un G25 ignorantissimo bellissimo cioè quel volante lì mi ha fatto stradivertire ma sai con cosa con Gran Turismo stiamo parlando eh sì sì una domanda sai cos'è non è che siamo diventati più esigenti noi man mano che va avanti che noi pretendiamo troppo probabilmente anche per riallacciarci al discorso di Automobilista 2 sì o no può essere così oppure una questione di tipologia di giocatore allora sai che su questo argomento qua hai toccato un tasto interessante perché era una cosa che io ho sempre in mente cioè il discorso del dell'emozione no e questo si collega un po' il discorso iniziale che tu mi hai detto perché Automobilista perché Vintage perché ci sono delle corde che vengono toccate dentro di noi quando le provi la prima volta e non verrà mai più ripetuta cioè l'emozione che ho provato io la prima volta col G29 è un'emozione secondo me unica che non si è ripetuto quando sono passato un direct drive quando sono passato il direct drive ero già preparato cioè avevo un'idea che doveva essere in un certo modo io mi sentivo la vettura avevo delle sensazioni bellissime meravigliose e ho capito certe cose che prima non capivo ma l'emozione di mettere le mani su un volante che si muove in base a cose quello non l'ho vissuto quello è stato una prima è un po' come il primo bacio un po' come la prima la prima volta che ti ubriachi la prima pizza cioè sono quelle cose che secondo me non si ripeteranno mai più cioè poi certo avrai una consapevolezza cioè io ho una consapevolezza che un 5 newton metro con dei certi fit lavori in un certo modo 12 in un altro 20 in un altro quindi una consapevolezza una crescita nella mia cultura ma l'emozione della prima volta secondo me ce la siamo giocata lì cioè questo è quello che penso io poi dopo ovviamente è un mio pensiero sì io lo condivido lo condivido lo condivido perché sì sappiamo cosa aspettarci sappiamo quello che sta per arrivare e penso che tra un a volte ci facciamo dei ragionamenti che sono forse fuffa rispetto a quello che dovrebbe essere oggi ma qualsiasi tipo di attività ludica il fatto di divertirsi è prima di tutto ritrovarsi con degli amici perché diciamo la verità quando quando ci becchiamo il sabato pomeriggio e coglioneggiamo che cazzo te ne frega dell'auto che stai utilizzando è vero o no cazzo cioè è sta roba qua quindi io faccio io ad esempio io ammiro tanto e te lo dico francamente io ammiro tanto tutte quelle persone che hanno una passione sfegatata per quanto riguarda fare team d'altronde io d'altronde ho un team ufficiale gli S di Shiba ragazzi che saluto i ragazzi loro si preparano sono fortissimi fanno squadre setup cose cioè è un livello che è come se fosse una squadra vera a livello di preparazione a livello di serietà i regolamenti interni eccetera eccetera veramente è un livello altissimo che io non potrei sostenere nel senso che non è più una questione di tempo è una questione proprio di io in quel modo lì non riesco a divertirmi invece loro si divertono proprio simulando la cosa eccetera facendo squadra in quel modo lì sono gare intense fanno non sono le garette da 20 minuti loro fanno le endurance ad esempio io doppio cappello giù per questo perché quando fai uno stinto di tre ore ragazzi è pesante non è che in più riuscire a portare dei risultati a certi livelli fantastico io sono più il pilota accendi vai giù in pista ci sono due tre amici dai che facciamo una combo ah bastardo vai più veloce frega niente capito è proprio il modo di vivere la simulazione o comunque la propria passione come dicevi tu quando si riescono a toccare certe corde vedi queste persone qui la loro passione è quella quindi probabilmente vibrano ad una frequenza tale che li fa divertire proprio perché la intendono in quel modo lì io ad esempio non vedo l'ora che sia domani pomeriggio bordello violenza facciamo il casino è vero o no ma non solo anche il dopo cioè ti spiego a me è una cosa che mi fa emozionare ad esempio ci sono due cose io corro poco perché come te poco tempo poi sono quello che sta alla radio a fare le live quello che fa i video cioè il coglione di turno che deve organizzare le cose con gli amici per far divertire tutti ma quello che mi emoziona di più in tutte queste cose è quando vedo Mauri che fa tirare fuori il coso degli automobilisti no? com'è che l'hai chiamata la serie? Imprese d'automobilisti Imprese d'automobilisti ti risenti la tua voce ti rivivi il momento poi ti esce quello di Karma TV di Fiorillo che fa la stessa cosa cioè ragazzi ha un intro io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre costantemente infatti come una bestia numero uno queste cose qua mi fanno impazzire e poi un'altra cosa ad esempio sul campionato BTCC in questo momento non solo c'è la live eccetera quindi i piloti sono contentissimi ma c'è un mio carissimo amico che si chiama Pino Sciotti che saluto lui si occupa della rassegna stampa però è una satira ma bella pesante però nei confronti di tutti tipo io ti do un commento della gazzetta di SimDrivers dove c'è scritto che io sono entrato nel briefing perché voi non sapete tutto però nel briefing uno entra e siccome devi far capire i piloti calm down siamo qua per divertirci c'è una live eccetera io entro sempre a gamba tesa cioè sono chiaro no? arrivo e dico ragazzi oh non si scherza affiancamento cosa è non ci sarà pietà per nessuna cioè è veramente un tiranno lui ha tirato fuori una ringa su di me tipo il Fabri entra adesso te la sto facendo così perché nel dettaglio il Fabri entra nel briefing qua io sono Dio sulla terra comando io tipo robe del genere ti svelli poi fa tipo il migliore il peggiore pilota fai il cazzaro del giorno cioè sono robe che tu aspetti il martedì a mezzogiorno me la mando in anteprima a me perché dice deve prima passare da te perché io la devo convalidare quindi io me la leggo mi spacco dalle risate cioè questi sono dei momenti fantastici che ruotano intorno alla simulazione quindi quando tu insieme agli altri avete detto sì Fabri facciamolo cioè io già sapevo quello che mi che mi aspettava capito cioè non è la gara insieme non è che non me ne frega mi diverto ovviamente ma è il fatto di concludere questi momenti il fatto di cazzo sarò in qualche video prenderanno sicuramente le mie cagate c'è una cosa fantastica trovo qualcosa di fantasma e la gente sta roba qua gli piace tanto diciamo la verità gli piace che poi che poi adesso io ti dico una cosa perché io l'avevo detto una volta in un video mio un po' di mesi fa e te lo dico anche adesso qua che parlando proprio del fatto perché io sono su youtube cioè sì tutto quello che abbiamo detto prima è vero però c'è anche una piccola cosa che non è se non voglio la tristire assolutamente nessuno voglio fare una cosa molto sciolta molto semplice io purtroppo in casa per carità abbiamo avuto qualche perdita sia di una persona giovane e il fratello di mia moglie che a 30 anni purtroppo è mancato e oltretutto abbiamo avuto il mio suocero che ha avuto una decorrenza diciamo di Parkinson una malattia abbastanza brutta questa famiglia è una famiglia sempre stata di sportivi persone molto attive solo per dire che cosa che io a un certo punto sai quando vedi una persona che fino a ieri scalava montagne e poi lo vedi che non si muove più tu nella tua testa girano tante cose e io mi sono detto ma cazzo io devo trovare qualcosa che mi appassioni che se io un domani non posso fare che mi dia stimolo e vita e qui mi collego a quello che mi hai detto tu adesso ed è così ed è meraviglioso a me la passione come ti ho detto prima è tutta quella là aggiunto a queste emozioni immature di un uomo di 50 anni alla fine cioè io per me è meraviglioso io quello che vivo io lo vivo come hai raccontato tu adesso io lo vivo così cioè non è che vengo qua per chissà che cosa devo fare cioè ma io non devo fare niente io devo trasmettere la passione a chi guarda a chi c'è dobbiamo ridere dobbiamo ridere dobbiamo ridere cioè dobbiamo divertirci dai ragazzi voi non l'avete visto ma andate a vederlo la intro della prima del primo video quando si sente io entro arrivo in ritardo ehi Mauri cazzo tutti a ridere ecco il Mauri con questa maur è spettacolare ma non è incredibile come va questo uomo qua il Lex Bugge grandissimo il ciclista con le macchine purtroppo è questo lo spirito ragazzi ecco perché noi vi aspettiamo venite in questo canale telegram che è fantastico meraviglioso sono veramente contentissimo guarda Mauri di aver chiacchierato con te ovviamente possiamo dirlo tranquillamente riproperemo la cosa sicuramente non so mensilmente non lo so decideremo io e te perché penso che anche il chiacchierare tra di noi ovviamente io io e tu inviteremo altre persone faremo le chiacchierate a tre ragazzi senza un argomento specifico proprio per condividere questa nostra passione e per trasmettere a questo punto a due lo spirito che regna in queste lobby di automobilista due e non sono ragazzi perché voi cazzo le tue dietro a Ray Factor 2 che c'è durante il campionato sarebbe bene fare un dietro le quinte non so come posso farlo però sarebbe una figata far sentire far ascoltare tipo il il briefing se robe qua anche quando parlano i piloti che è fantastico oppure la tensione della superpollo che c'è in questo momento qui perché con un trailer è complicato far capire un po' però in ogni caso guarda Mauri io ti ringrazio veramente tantissimo prima di tutto per avermi accordato questa intervista per la tua disponibilità e gentilezza per quello che fai per Youtube Italia e per quanto riguarda la simulazione sono davvero contento di conoscerti di persona ovviamente virtualmente però Cuneo non è lontana no non è lontana io ti do appuntamento domani pomeriggio che ci abbiamo ovviamente non so quando uscirà il video però noi domani pomeriggio abbiamo appuntamento noi domani pomeriggio abbiamo le formula 3.5 esatto abbiamo anche le GT4 e un paio quindi l'appuntamento ovviamente ragazzi come al solito è insieme a Maurizio adesso decideremo un attimino inviteremo altre persone ma potremmo anche come fanno in televisione invitare qualcuno nel pubblico sarebbe una figata perché noi ne conosciamo c'è gente che comunque ci segue poter organizzare anche un'intervista di persone che non fanno video su youtube sarebbe una figata quindi ragazzi se volete lasciate un commento qui sotto e quindi io ragazzi vi ringrazio come al solito per averci seguiti a questo punto tutte e due con Mauri mi fai qua vediamo se ci riusciamo vai tac ci siamo riusciti ti rendi conto il Mauri ti rendi conto che abbiamo 95 anni in due e facciamo ancora queste cagate comunque va bene bene ragazzi allora se il video vi è piaciuto doppio pollice in su lasciate un commento qui sotto ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul tubo così facciamo lavorare un po' l'algoritmo del canale io vi ringrazio come al solito per averci seguiti un abbraccio da Fabriz e Mauri è tutto ciao